Ciao, come state? Fate finalmente un nuovo video ASMR con il Tascam, ogni volta, ogni, ogni volta che faccio un video ASMR lo inizio con finalmente. Però il mio canale non è ASMR, quindi è scontato forse. Allora, per chi segue il mio canale da un po', saprà che ho cominciato a fare i Vlogmas, come ormai ogni anno, ossia un video al giorno, un video al giorno, un giorno, un giorno, un giorno, fino al 24 dicembre. In genere sono vlog, però ho deciso di iniziare questa stagione di Vlogmas con un video un po' rilassante. Mi auguro di cuore che i rumori di sottofondo non siano così fastidiosi, però è giorno, quindi ci sono tante macchine che passano e purtroppo questo adorato microfono cattura tutti, tutti i rumori. Comunque, come da titolo, oggi facciamo il Christmas Tag in cui risponderò ad alcune domande in merito, appunto, alla stagione natalizia, al periodo natalizio. Ho pensato che potesse essere un'idea carina da riproporre in ASMR, perché in realtà ho già risposto a queste domande qualche anno fa. Ma volevo appunto riproporvele in modalità rilassante, almeno spero. Quindi direi di iniziare subito. Se vi va, vi lascio tutte le domande scritte giù nell'info box e così se volete potete rispondere anche voi nei commenti e farmi sapere le vostre cose natalizie preferite. Questo sicuramente sarà un Natale un po' diverso dagli altri, ma non per questo dobbiamo farci abbattere e non sentire lo spirito natalizio. Ho le domande qui sul telefono. Cominciamo. Prima domanda. Film preferito per le feste? Allora, in realtà io non sono così ferrata sui film natalizi. Mi piacciono, ma non ne ho visti poi così tanti. Comunque, il film che in realtà non è propriamente un film di Natale, però è un film che immancabilmente vedo tutti gli anni è Mamma, ho perso l'aereo. Mi fa troppo ridere, piace tantissimo a tutti i miei parenti, quindi in genere a un certo punto lo vediamo. Altrimenti un film proprio di Natale che mi piace molto è A Christmas Carol. A Christmas Carol. La storia mi piace tantissimo. Se non sbaglio è di Charles Dickens, la storia. Il libro, insomma. E' molto molto carino. Seconda domanda. Colore preferito del Natale? Sarò banale, ma è il rosso. Il rosso, secondo me, è proprio il colore natalizio per eccellenza. Mi piace nei vestiti, mi piace sulle labbra, mi piace sull'albero come colore della carta con cui impacchettare i regali. Mi piace tantissimo. Terza domanda. Natale in pigiama o ti vesti? Allora, forse quest'anno sarà un Natale in pigiama, data la situazione ancora non si sa in realtà. Però tendenzialmente no, mi vesto sempre perché mi piace agchindarmi un po'. Quando ci sono queste situazioni un po' festive, insomma, occasioni per stare con la mia famiglia, mi piace sistemarmi. Non sempre mi vesto elegantissima, in realtà dipende molto dal mood dell'anno o dall'occasione. In genere io faccio un cenone per la Sicilia, un pranzo a Natale e una cena per Santo Stefano perché ho tanti parenti e tutti insieme non riesco a vederli. Però sì, no, in genere mi vesto. Quarta domanda. Se dovessi fare un solo regalo ad una sola persona, chi sceglieresti? Credo di aver risposto così anche la prima volta in cui ho risposto a questo tag. Ma sarebbe mia sorella. Perché se proprio devo escludere tutti, a questo punto non la faccio a nessun amico, ma a Giulia, insomma, mia sorella per forza. È sempre stata comunque la prima persona a cui ho comprato il regalo ogni Natale. In questo caso, quest'anno non ho ancora comprato alcun regalo. Sono molto spaventata perché non so bene che cosa regalare. Però sì, se dovessi scegliere una persona, sarebbe lei. Quinta domanda. Apri i regali la sera o la mattina? Dipende molto appunto da con quale parte della famiglia sono. In genere, in entrambe le occasioni, perché dalla parte di mio papà li apro il 24 sera, mentre dalla parte di mamma li apro il 25 mattina o a pranzo, perché siamo troppi. E quindi in genere, il 24 sera siamo con la famiglia di papà, mentre il 25 siamo con la famiglia di mamma. Non perché le due famiglie non siano compatibili, ma perché dentro una casa saremmo, non so, 50. Quindi, al di là della situazione di quest'anno, non riusciamo mai a vederci tutti un giorno stesso. Però è anche bello perché così le vacanze di Natalizia durano di più. E poi si mangia tanto. 6. Hai mai costruito una casetta con il pan di zenzero? No, mai. Credo che sia una cosa più americana, ma in generale non amo il pan di zenzero, quindi il massimo che faccio di ricetta sono i biscotti magari alla cannella, eccetera. Ma il pan di zenzero non mi piace. 7. Nei giorni di pausa, dopo Natale, cosa fai? Credo che si intenda tra Natale e Capodanno. Premesso che io non amo festeggiare neanche il Capodanno, e sì, mi capita di fare qualcosa, ma non, come si dice, non smanio per avere una festa enorme. Comunque, tendenzialmente, sono i giorni in cui mi godo i regali che ho ricevuto, mi godo il pandoro a colazione, mi godo la mia famiglia, quindi guardiamo un po' di film insieme, perché in genere anche i miei genitori sono in ferie dal lavoro, perciò ci godiamo un po' di tempo insieme, facciamo un po' di giochi da tavolo, oppure se il tempo è bello, mi piace fare delle passeggiate per la mia città, perché mettono delle lucine in genere molto belle, spero di potermele godere anche quest'anno. Però sì, insomma, niente di eccezionale. 8. Il tuo desiderio di Natale. Beh, in questo caso, come non mai desidero vedere la mia famiglia, purtroppo la situazione non è delle migliori, ho molta paura di non riuscire a vedere i miei nonni, la mamma di mio papà e il marito, perché vivono a Rimini, e quindi se non aprono le regioni, o comunque se l'Emilia Romagna rimane zona arancione, mi sembra che sia adesso, non potrò vederli, perché non potranno spostarsi, anche se forse faranno un'eccezione per gli anziani, quindi speriamo, anche perché loro stanno lì da soli. Però sì, e poi appunto, io sono abituata a fare delle super feste natalizie, e quest'anno ho paura che sarà un po' diverso. Quindi, spero di poter vedere il più possibile la mia famiglia, magari, anzi, senza magari, non facendo i genoni che facciamo di solito, dovremmo vederci a gruppi molto più piccoli, ma spero di poterli vedere lo stesso, insomma. Nove, quale odore fa subito Natale? Anche qui sarò banale, ma l'odore del pandoro, l'odore del pandoro, l'odore del pandoro, fa troppo Natale, anche l'odore degli alberi fa Natale, l'odore della neve, non so se avete presente, ma non proprio neve, perché qui a Roma non nevica quasi mai, però l'odore degli alberi freddi, comunque l'odore del pandoro, che tra l'altro non vedo l'ora di comprare e mangiare. Poi, ultima domanda, cibo di Natale preferito? Allora, io non sono, anzi, non tanto io, quanto la mia famiglia in generale, non siamo troppo tipici, diciamo, nelle ricette natalizie, anche lì, la tradizione natalizia, credo che si rispetti più in altri paesi, o comunque, non prettamente nel Lazio, ecco, è difficile che mangiamo sempre le stesse cose a Natale, diciamo che tendenzialmente, al di là dei dolci natalizi, quindi pandoro, panettone, torrone, io sono team pandoro, comunque, se non si fosse capito, scrivetemi, voi che team siete, però di cibo salato, in genere, noi, a Natale, mangiamo, i tortellini in brodo, e l'arrosto con le patate, difficilmente il tacchino, o comunque, coniglio, eccetera, perché, a me non piacciono, mi fanno anche un po' pressione, onestamente, però l'arrosto, in genere, quasi sempre, perché mio papà lo fa, buonissimo, e poi, ogni tanto, mangiamo l'insalata russa, perché c'è una zia di mio papà, che fa un'insalata russa, spaziale, quindi, quando anche lei, partecipa alle nostre cene di Natale, mangiamo anche l'insalata russa, che non so se sia tipica di Natale, sinceramente, però ecco, difficilmente mangiamo cose tipiche, poi il pranzo del 25, in genere, mangiamo il primo, quindi, pasta al forno, lasagne, fettuccine, eccetera, ma, anche qui, non credo siano cose tipiche, bene, questo era tutto, come introduzione, al periodo natalizio, spero che il video vi sia piaciuto, anche se sarà venuto, piuttosto breve, ma voleva essere, semplicemente, una chiacchiera, tra di noi, e un inizio, appunto, di questa stagione, di Vlogmas, non credo, onestamente, che ci sia qualcuno, tra voi, che mi segua, solo, per i video, smr, perché li faccio, davvero di rato, però, se per caso, sei curioso, e vuoi rimanere, sul canale, ti consiglio, di seguire, i Vlogmas, perché appunto, fino al 24, dicembre, ci sarà, sul mio canale, un video, al giorno, non credo, che farò, altri video smr, durante questo periodo, perché appunto, saranno, per lo più, video delle mie giornate, però, magari, possono piacerti, e comunque, ritornerò, a fare i video smr, dopo il periodo, di Natale, spero, con un pochino, più di costanza, il problema, è che mi mancano, le idee, e le attrezzature, detto questo, io, vi saluto, vi mando, un enorme bacio, spero, appunto, che questo video, vi abbia, rilassati, o almeno, intrattenuti, e ci vediamo, alla prossima, ciao, ciao,